capuccio un piccione che c'è e questo praticamente il tempo che abbiamo qui a Pesca Serum 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 per il discorso del vivere in campo ripeto non ho più una certa età quindi ho i miei tempi però ripeto spero un giorno di poterlo fare lo voglio fare no spero lo voglio fare diverso abbiamo ripreso la marcia ci siamo fermati abbiamo fatto pranzo abbiamo mangiato lo spezzatino tra l'altro molto buono non capisco perché in camper a noi lo spezzatino ci viene meglio che a casa perché in camper lo chiameremo spezzatino alla camper ok abbiamo ripreso la marcia direzione credo Avezzano passeremo per Avezzano poi si vedrà ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo trovato questo spottino. Direzione casa. Abbiamo trovato questo spottino. Tra l'altro io già lo conoscevo, però abbiamo visto l'indicazione su Park4night perché siamo passati a Vezzano e c'è sempre lo stesso tempo praticamente. Piove, 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 piove e strada facendo sul Park4night ci è venuto in mente di questo spot. Qui praticamente ci sono delle grotte che si possono visitare addirittura con il personale. E adesso vado a chiedere se è possibile passare la notte qui perché non credo che sia possibile accedere alle grotte. Questo è un bel posto, pietra secca, praticamente pochi chilometri da Carzoli, sempre in provincia dell'Aquila. Andiamo all'accoglienza, vediamo che cosa ci dice, se possiamo passare qui la notte. Come potete vedere, riserva naturale grotte di pietra secca, è un bel posto, è l'estate molto frequentato. Andiamo a sentire. Buongiorno. Senta, è possibile passare la notte qui con il camper? Sì, è possibile perché tanto non c'è movimento e non ci sono problemi, insomma. Non è una persona attrezzata, quindi non c'è... Sì, no, a noi ci interessa soltanto per la notte. Sì, sì, nessun problema, nessun problema, c'è anche le altre. Ok, la ringrazio. Di dove siete? Noi siamo, diciamo, di Roma. Quindi le conosco queste grotte, però so che sto visitarvi, diciamo, in periodo estivo. Sì, in realtà, diciamo, sto visitarvi anche in quei giorni, solo per con questo maltempo sconsigliato. Prima ho mandato via delle persone che a volte avevano prenotato, perché andavano degli ingressi a diverse ore. E quando sono arrivati hanno fatto il biglietto, gli ho dato il biglietto, hanno pagato, ha cominciato a fare un biglietto. Poi ho detto che non ci sono più supposti per il biglietto in grotta, perché bisogna fare 400 metri a piedi nel bosco, allora lasciamo perdere. Anche oggi ho conto di chiudere tra un po' infatti. Ok, comunque sia possiamo... Nessun problema, nessun problema, ci mancherebbe. La ringrazio. C'è anche la differenziata, se volete buttare qualcosa da mattina. Perfetto, grazie. Arrivederci, grazie a lei. Ecco qui, possiamo passare la notte, non c'è alcun problema. Totò può fare la sgambata, ma lascialo libero, no? Che purello legato così, come una salsiccia? Ma aspetta. Intanto, dove vuoi che va qui? Stano. Eh? Questo itinerario ve lo consiglio, questo è adatto alle famiglie, è veramente un bel posto. Però ecco come... Un attimo che c'è un problema qui, action cam. Come ha detto anche qui il responsabile, Questo periodo è un po' un problema. Bello, bel posto veramente questo. Pochi passi da Roma. Vai Totò, vai, tutto tuo. Guarda, Totò. Ma che posto è? Totò, ma che posto è? È un po' 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 un gopro resta video